Ieri mattina mia figlia ha disegnato un pollo con un sacco di gambe. Le ho contate. Una, due, tre, quattro. Non so perché, ma quel disegno mi è rimasto in mente. Poi, al supermercato ho capito. Dove sono andati a finire i veri polli? Poi, ai, 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 ai. A presto. A presto. A presto. A presto.